Ciao a tutti e benvenuti di nuovo sul canale Oggi volevo fare un piccolo video per farvi vedere degli acquistini che ho fatto da DM Allora, inizio subito facendovi vedere alcune maschere che mi sono comprata che sono di questo tipo qua, fatto in tessuto insomma Allora, ho preso questa qui all'avocado che a quanto ho capito è una maschera idratante Poi ho preso questa qui che dovrebbe essere esfoliante e purificante diciamo, credo, comunque per detergere a fondo la pelle e deve essere una di quelle che una volta messa il tessuto qui imbevuto di prodotto sul viso fa tutte delle bullicine, una schiumettina Io ne ho già provata una di queste, non proprio questa qua un altro tipo era, adesso non ricordo di che marca fosse però mi ricordo che era stato divertente, piacevole e quindi erano in offerta se non mi sbaglio queste maschere qua Non mi chiedete i prezzi perché lo scontrino purtroppo non so più dove sia finito e io ho una pessima memoria per queste cose Poi ho preso quest'altra che è sempre una maschera in tessuto Questa però deve essere in hidrogel mentre queste dovrebbero essere proprio in tessuto con la specie di carta tessuto Questa qua invece dovrebbe essere in hidrogel e tra l'altro dovrebbe essere quella dorata Non ne ho mai provata una se non mi sbaglio che io ripeto per queste cose ho una memoria terribile Vediamo se dice qualcosa Maschera viso golden in hidrogel per tutti i tipi di pelle Arricchita con papaya, olio di noce e di cocco e acido ialluronico Dona idratazione e rivitalizza la pelle Le rughe si attenuano eccetera eccetera Beh io sì sono un po' scettica Sicuramente l'ho già detto in qualche altro video Sono un po' scettica su tutti questi meravigliosi benefici che dicono di apportare queste maschere Però a me piace farmene, è divertente Quindi ogni tanto me le faccio E poi ne ho acquistato queste altre due Scusate ho fatto traballare tutto Ho acquistato queste altre due Dunque questa è sempre in tessuto Che dovrebbe essere Aspettate che leggo Sì idratante anche questa Idratante E questa qui della balea al cocco Quando ho visto cocco ho detto Devo prenderla Speriamo che profumi proprio di cocco Perché io adoro il cocco Quindi speriamo che sappia proprio di cocco Quante volte ho detto cocco? Adesso basta Dunque vediamo qua che cosa dice Idratante Sì anche questo idratante Mi sa che le ho prese tutte idratanti A parte questa Ok Poi vi faccio vedere Altre cosine Sempre della balea Ho preso queste due cosine qua La balea è una marca che c'è il DM Ecco qua la marca Il simbolino del DM Che tiene appunto il DM Ed è una marca molto economica Aspettate che non voglio far Traballare di nuovo tutto Dunque questa qua è un'acqua profumata Praticamente per il corpo Sempre ha il cocco Comunque qua dice Caribbean feelings Quindi un qualcosa di caraibico Dovrebbe essere Adesso la spruzzo Vediamo Perché io lì sul momento Non l'ho spruzzata Ma mi è bastato vedere il cocco Ho detto Buono la prendo Se ha il cocco Vediamo un po' Sì Sì buona Si sente il cocco Si sente E' delicatino Però Buono Buono Sono contenta Questa qua invece Perché non l'avevo ancora spruzzato Veramente Giuro Non l'avevo ancora spruzzato Quindi l'ho L'ho usato Qua con voi E' molto buona Mi sa di Cocco E anche un po' di Monoi Buono Buono E' effettivamente E' Sa un po' di mare Diciamo Buona Molto buona Questa Questa invece E' sempre Sempre della Balea E deve essere Un Come un Un'acqua Rinfrescante Diciamo Al cocco Vediamo se qua c'è scritto Ecco c'è scritto in italiano Spray Viso Idratante Con olio di canapa E acqua di cocco Nebulizzare Al bisogno Anche più volte al giorno Sul viso e corpo Lasciare agire E praticamente Si può mettere Anche nel frigo E rinfrescarsi Con quest'acqua qua Mi Mi incuriosiva E quindi ho preso anche quella Poi Poi ho preso Appunto Quest'acqua qui Acqua di cocco Del giardino dei sensi Sempre cocco Qua appena inizia il bel tempo Il caldo Si va di cocco Io appena l'ho vista Quest'acqua qui Mi è venuta in mente Paola Ciao Paola Del canale dove c'è Viola C'è Paola Martino Che Non vorrei sbagliarmi Ma mi sembra proprio Di aver sentito parlare Da lei Di queste acque qua Beh sta di fatto Che io quando l'ho vista Ho pensato a te Ho pensato a te Paola E Proprio perché mi sembrava Di averti sentito Parlare di queste acque Quindi Non l'avevo mai trovata È stata la prima volta Che l'ho trovata E quindi ho detto Ma la voglio provare Perché Paola appunto Ne aveva parlato bene Ed effettivamente Devo dire che È veramente buona Buon profumo Ok Andiamo avanti Adesso vi faccio vedere Due cosine Che hanno preso Le mie bimbe Perché ovviamente Erano con me Allora Vengo da questa parte Allora Hanno voluto Questa doccia shampoo Ovviamente Attirate Senz'altro Dalla confezione Arco balenosa Unicornosa No in realtà Unicorni Non ce ne sono Però dei colori Costava 99 centesimi Ecco questo me lo ricordo 99 centesimi Sempre della balea Quindi gliel'ho preso E poi Hanno visto Questa roba qua Un super mattoncione Da bagno Di quelli che frizzano Ma è veramente gigante Non so se Si riesce a capire La dimensione Ma è veramente gigante Guardando le mie Io non ho le mani Molto grandi Però comunque Mi prende tutta la mano Praticamente Sta mattonella Era in offerta 4 euro E una appunto Di quelle tipo Bombe da bagno Per intenderci Che le Immergi nell'acqua Iniziano a frizzare Non so se questa Colora anche l'acqua Non ho idea Comunque C'è scritto Extra efervescente Quando l'hanno visto L'hanno voluto Visto che era in offerta Ho detto Vabbè dai E lo prendiamo Poi Ho preso I cerottini E sempre Della Balea I cerottini Per i punti neri Sul naso Ok Non li ho mai provati Quelli Di questa marca qua E poi ho preso Una mini size Proprio Mini 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 Taglie da viaggio Da 50 ml Di questo Latte solare Protezione 50 Io Utilizzo Quando vado al mare O anche in montagna Utilizzo sempre La protezione più alta Quindi 50 Non solo Sulle bambine Ma anche su di me Ma anche mio marito Utilizza 50 Al massimo Mio marito Utilizza la 30 Ma io Utilizo sempre La 50 E sulle bambine Metto sempre La 50 Perché abbiamo Una pelle Molto molto chiara E quindi Siamo soggetti Io E anche le bambine Siamo soggetti Ecco Da arrossamenti Perciò io Vado sempre Di 50 Ed essendoci Appunto Questi prodotti qua Solari Nuovi Io non li ho mai provati Quindi per provarlo E vedere come Se mi piace Se è troppo appiccicoso Se è troppo denso Insomma Le cose Che uno valuta In una crema solare Per decidere Se Fa per Se piace o no Insomma E quindi Ho voluto prendere Quella piccolina Per poterla provare E vedere come ci Come mi trovo Come ci troviamo Ultimissima cosa Che non è un prodotto beauty Non è un profumo Né niente Ma è una cosa Cartopazzosa E tada Dei washi Io veramente Scusate Sono uscita dall'inquadratura Ma ho il filo Che mi tiene il telefono Qua che non volevo Buttare giù tutto Io non sapevo Che al DM Non era la prima volta Che andavo al DM Ma non mi ero mai Accorta Che ci fosse Un reparto Cancelleria Barra cartopazzia Non che ci fosse Chissà che cosa Non c'era Chissà che cosa Anzi Era abbastanza vuoto Però sinceramente Non mi aspettavo Di trovare Dei washi tape Quindi quando L'ho visti E poi così carini Ho detto No li devo prendere Erano anche in offerta Sì non li ho pagati Pochissimo Adesso non ricordo esattamente Ma 3-4 euro Una cosa del genere E adesso Li apro insieme A voi Così li vediamo Bene bene Se riesco A aprirli Aspettate Vediamo qua Ma forse mi conviene Andare a prendere Delle forbici Perché sono proprio Allora forse Ce l'ho fatta Sì Ok Ce l'ho fatta Sì ecco qua Allora Così li vediamo Bene bene Da vicino Scusate se Traballa Tutto Aspettate mi tolgo un attimo Dall'inquadratura Per riuscire a Perché non ho una forbice Qua portata di mano Per riuscire Ma mi sa che Me la devo andare a prendere Eccomi Ce l'ho fatta Allora Eccoli qua Beh ma sono Proprio carini Allora Vediamoli per bene Dunque Vediamoli per Benino Allora Sono quelli di Non si capisce Se sono di carta Sembrarebbero di carta Quelli di carta Ma al tatto Sono un po' Plasticosi Allora Questo con i cuoricini Tutti a A pua Diciamo Glitterati Bello Molto bello Carino Poi Questo è un po' Più sottile Olografico Vediamo se trovo Che carino No vabbè Bellissimo Tutto olografico Bello 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 Poi Questo qui Cioè Questo qui Quando l'ho visto Ho detto No Questi vengono a casa Con me Se riesco a trovare Anche qua Sì Eccolo qua L'ho trovato Questo rosa Con gli arcobaleni E' un unicorno Cioè Sembrarebbe un unicorno Ma il corno Non lo vedo Comunque Bello Bellissimo Questo è veramente Wow Questo E quello E questo qua Olografico Sono bellissimi E l'ultimo E' un po' Olografico E' un po' A pua Rosa Scusate Sono uscita Bello Bello Anche questo No no Sono molto contenta Di questi Wash Molto Molto Contenta C'era solo più questo Non ce n'erano altri Solo questo Blochettino Qua Ok Niente Io Ho finito E' un video Velocino Veloce Per Farvi vedere Questi acquistini Che ho fatto ieri E spero di avervi Fatto un po' Di compagnia A me sicuramente L'ha fatta Il fatto di fare Un attimo Così di video E niente Grazie mille a tutti Ci vediamo Ciao 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 Ciao